Una lite in famiglia sfociata in un'aggressione con tanto di esplosioni e di colpi di arma da fuoco calibro 38 che ha portato all'arresto di un pregiudicato di 32 anni, Moreno Sagazio, a restare ferita la sua convivente, madre dei suoi sei figli. I fatti si sono svolti nella notte di domenica a Pescara, in via lago di Capestrano. Subito, grazie anche alla collaborazione dei residenti, questo va detto, si è capita la dinamica dei fatti, pur non essendo presente la persona offesa, che è una donna di 26 anni, da noi conosciuta sul posto, che era stata attinta da un colpo d'arma da fuoco, sparato dal convivente, a seguito di una lite che l'aveva vista dapprima in casa per poi lei fuggire fuori dall'abitazione dove appunto era stata raggiunta dal compagno che armato di un revolver l'ha fatto fuoco colpendola ad una gamba. Si è ricostruita subito quella che era la dinamica dell'episodio, per cui sono scattate le ricerche del sospettato del gesto, che è un pregiudicato del posto, si chiama Sagazio Moreno, il quale dopo un'ora e mezzo o due, fuggito a piedi, è stato rintracciato dalle volanti mentre cercava di allontanarsi da un'abitazione che si trovava vicino proprio al bielago di Capestrano. È nata una colluttazione rapida con i ragazzi della volante, è stato tratto in arresto e successivamente ha ritenuto di farci trovare la pistola di cui si era disfatto durante la fuga. È stato messo a disposizione della Procura della Repubblica, nella persona del dottor Pompa, tratto in arresto con un'ipotesi che al momento è quella di lesioni volontarie gravi. L'accusa è quella di lesioni volontarie gravi. La donna si trova ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Pescara. Le sue condizioni non sono gravi. La donna a inizio anno aveva denunciato il convivente per maltrattamenti, un soggetto già noto alle forze dell'ordine per droga, guida senza patente e detenzione di arma da fuoco senza licenza. Lui ha diversi trascorsi, nonostante la giovane età, ragazzo di 32 anni, è conosciuto per pregiudizi in materia di stupefacenti, di resistenza pubblico ufficiale e anche specifici perché nel 2014 fu tratto in arresto proprio perché sorpreso in possesso di un'arma quando abitava in via caduti per servizio.